Servirsi del nome del Signore nelle superstizioni, malefici, magie, imprecazioni è una forma blasfema da condannarsi. Da quanto detto comprendiamo subito che servirsi del nome del Signore come un'incrediente efficace o di effetto nelle superstizioni, sagrilegi e incantesimi, magnifici e magie imprecazioni è una forma blasfema più o meno grave che può trovare una qualche scusante solo se vi è uno stato d'animo, di disperazione oppure se è di una grossa ignoranza. Anche con il giuramento si può offendere il Signore, infatti si invoca la vericità divina a garanzia della propria veracità. Oppure si fa un'affermazione solenne di cui si vuole far risultare la verità assoluta. Gli uomini infatti giurano per qualcuno maggiore di loro e per loro il giuramento è una garanzia che pone fine ad ogni controversia. Il giuramento, ossia l'invocazione del nome di Dio a testimonianza della verità, non può essere prestato se non secondo verità, prudenza e giustizia. Abbiamo invece una mancanza di giustizia quando si pronuncia un giuramento con intenzioni cattive, vendetta, oppressione o si promette solennemente di fare del male a qualcuno. È chiaro che questo tipo di giuramento è sagrilego e non è vincolante. Non si può fingere di giurare, cioè di pronunciare le parole del giuramento senza l'intenzione di giurare. Ciò significa strumentalizzare Dio per bassi motivi di speculazione e di incanno e quindi fare abuso del nome di Dio. Nel giuramento non è neppure consentito la restrizione mentale con la quale si intende dare altro significato alle parole che si pronunziano. È assolutamente inammissibile giurare come vero quello che invece si sa essere falso, anche se quando si afferma è di poco conto. Inoltre, se col giuramento è stato causato un danno ad una persona, bisogna risarcirlo. Liberamente si può giurare nei casi in cui occorra dare una certezza alla propria testimonianza di posizione in tribunale difesa di un innocente. Nel contempo, nel discorso della montagna, chiarisce il suo pensiero. Avete anche inteso che fu detta agli antichi, non sper giurare, ma adempio con il Signore i tuoi giuramenti, ma io vi dico, non giurate affatto. Sia invece il vostro parlare? Sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. Chiunque poi, riferendoci alla bestemmia, chiunque poi maledirà il suo Dio, porterà la pena del suo peccato. Di fatti il Signore interviene dicendo, contuce quel bestemmiatore fuori dell'accampamento. Quanto lo hanno udito e persino le mani del suo capo e tutta la comunità lo lapiderà. Parla agli israelite e di loro, chiunque maledirà il suo Dio porterà la pena del suo peccato. Chi bestemme il nome del Signore dovrà essere messo a morte. Per la nostra cultura una simile sentenza non è comprensibile, per cui si impone una spiegazione che illumina il fatto in base al concetto di morte. La bestemmia non è un maledire Dio, un rompere ogni rapporto di amicizia e di figlioranza, di conseguenza procure la morte. Dal Vancello notiamo che la bestemmia non è solo una frase offensiva verso Dio, ma anche farsi uguale a Lui, un appropriarsi delle sue prerogative, come perdonare i peccati. Tra i vari peccati possiamo citare il sagrileggio, profanazione di persona o cosa o luogo sagro, per natura o per consagrazione. La simonia, acquistare con denaro o altri beni materiali le cose consagrate o spirituali, barattare il sagro con il profano. Ancora l'inadempienza del voto, oltre ai voti di povertà, obbedienza e castità che mettono le anime consagrate alla vita monastica e religiosa, abbiamo il voto di devozione con cui il cristiano offre se stessa a Dio e gli promette un'opera buona per grazia invocata e ricevuta. Abbiamo così parlato dell'abuso del nome del Signore. Quanto sarebbe bello, come suggeriva Padre Pio, purificarsi la bocca col pregare e col dire Signore perdonami, Signore aiutami.